Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Allora, che dirvi? Sto caricando la macchina Devo sistemare Tutti i orecchini E ho detto, ciao, quasi quasi faccio un video veloce E poi sistemo il tutto Allora, questa è la scatola Delle meraviglie Per me si E' la scatola delle cose già pronte Che io Tra cui scelgo Che cosa decorare Cosa finire qua Magari farci su una bambolina Ah, ho fatto anche questi due Portacchiavi dell'occhitti Che non mi ho ancora mostrato Sono da finire di montare, ovviamente Ecco, diciamo che questa scatola Ho le cose da finire di montare A portata di mano Cose da decorare Vedete anche le Cammei già pronti Questo bianco Quest'altro bianco che ho rifinito Devo farci sulla bambolina Questa Questa rossa Lo starbucks Che anche lui Devo finire di decorare Questi che avete già visto Nello scopriamo le creazioni Devo farci su Qualcosina E insomma C'è un po' di Di roba Da sistemare E non Però io Questo video Volevo fare Per gli orecchini Allora Qua c'è anche il pesce morto Ancora Devo farci sulla Sposa cadavere Non so quando gliela farò Quando mi verrà l'ispirazione Penso Credo Va bene Niente Allora Parliamo degli orecchini Qua c'è un cameo Ancora da buttare Non l'ho ancora buttato E qua c'è un Harry Potter Ci volevo far su Hermione O non so Vediamo Comunque Parliamo degli orecchini Ho fatto I panini Delle hamburger Con le rispettive Patatine Eccoli qua Adesso Ne ho fatti I dici paia I dici paia Sì Vedete Ho fatti I dici paia E Niente Ne devo appendere Poi Questo cupcake Con Il suo fratello Dov'è il suo fratello Eccolo qua Eccolo qua Il suo fratello La Donuts Con la Donuts Che carino Questo mi piacciono tantissimo No Questo è un altro fratello Un altro Donuts Questo mi piacciono tantissimo Fatti in questo modo Con le mezze perle sopra Mi piacciono veramente tanto Poi rosa e bianche Secondo me sono bellissime Ok Poi Questo azzurro Con Questo cupcake azzurro Con quest'altro azzurro Questo azzurro rosa Blu E dorato Ma metto a fuoco Metti a fuoco su Vabbè Comunque si vedono Queste dance Caramellata Un po' uscita Un po' così Vabbè Vabbè Ma si Cookies fatti Con lo stampino E plus supply Strabelli Biscottino Ripieno Poi abbiamo Ecco Questi cacchi qua Non Ho fatto un po' troppo liquida La salsa E Ed è sborlata giù Non lo so Vabbè Io le porto Magari a qualcuno Possono piacere Un po' particolari Così Ma non piacciono Devo dire la verità Al massimo Gli faccio fare Una brutta fine Ecco Non è un problema Abbiamo ancora Le patatine McDonald Del McDonald Poi abbiamo Ancora Cupcake Coloratissimi Mi piacciono Sono Sono bellissimi Sempre Colorati Alla cioccolato Poi Questi rosa Con le ciliegine rosse Mezze perle rosse Queste Sì Allora Volevo far finta Di non sentirle Ma si sentono Ecco Le sentite Mannaggia Allora Sono le cinque Dovrebbero smettere Adesso Direi Va bene Questo è Con la grassa Il cioccolato Ok Va bene Oh che pazienza Questo è rosa Con la base bianca Mi piacciono tantissimo Zucchero a velo Variegato Cioccolato Cioccolato Fior di latte E Alla fragola Non sono meravigliosi Biscottino Che non so Cosa c'entra Qua dentro Un altro panino Ma il compagno Di questo Eccolo qua Un altro cupcake E Per finire I orecchini Con le perline Sì Il panciotto Di babbo natale E Il ramen Col sushi Che belli Mi piacciono E poi Il Noel Che ce l'avevo Ancora qui Da una mezza vita Ma mi sembra Che ve l'avevo Già fatto vedere In un altro video Eccoci qua Questi sono Tutti gli orecchini Che devo portarmi Domani Avrò il mercatino A Caponago Vicino Il paese Vicino A Casania La festa del paese Ecco Non è una festa Esagerata Però Una rosellina E niente Poi Cosa Volevo mostrarmi Ancora Questo Ho fatto anche Topolino E niente Vado a caricare La macchina Ragazzi Vi saluto E vi auguro Una buona domenica Per domani Forse questo video Lo vedrete già Di domenica Vabbè Comunque ragazzi Buona domenica Alla prossima Ciao Ciao